ciao a tutti io sono mariangela e benvenuti o bentornati nel mio canale come sempre se vi va vi invito a seguirmi su instagram dove mi trovate come lo spazio di meri e sul mio sito web www lo spazio di meri.it poi ovviamente vi lascio tutti i link giù nell'info box e ho anche una pagina facebook sempre mariangela lo spazio di meri detto questo la mia solita premessa passiamo all'argomento del video allora oggi parleremo di skin care vi voglio recensire due prodotti che sto usando nell'ultimo periodo e sono la mousse detergente dermopurificante per il viso e la crema idratante effetto matte del brand pura vida bio allora ne ho fatto anche una recensione piuttosto accurata sul mio blog vi lascio sempre il link giù nell'info box dove trovate anche le fotografie degli inci quindi non sto qui a fare lo zoom amanti indietro per farvi vedere parliamo prima della mousse in ordine di utilizzo allora come potete vedere a questa erogatura a pompetta molto comodo essendo una mousse prima dell'uso va agitata bene dunque io la massaggio sul viso ma a volte sia a pelle asciutta che a pelle un po umida e sto lì a lavorarci per far sì di rimuovere tutte diciamo le impurità è una mousse studiata apposta per le pelli miste e grasse proprio perché deve purificare quindi se avete una pelle piuttosto secca ve la sconsiglio mentre se come me avete la pelle mista io tendo a lucidarmi tantissimo soprattutto in questa zona o se avete la pelle grassa ve la consiglio perché allo stesso tempo è delicata ma asciuga bene la pelle quindi non tira troppo devo essere sincera rispetto ad altre mousse che ho utilizzato questa non mi secca troppo vediamo un po cosa ci dice nelle indicazioni nelle indicazioni contiene bioliquefatto enzimatico ottenuto con una tecnologia brevettata di bucce di pomodoro estratti d'avena arancia idrolato salvia idrolato aceto di mele aloe succo e detergenti di vegetale e infatti si sente molto l'odore agrumato che a me piace da morire e è studiata come vi dicevo apposta per cercare di aiutare la pelle o meglio di aiutare a regolarizzare il sebo in eccesso non secca troppo quindi non fa sì che la pelle produca ancora più sebo ma allo stesso tempo aiuta a rimuovere le impunità e io questa qui oltre ad utilizzarla al mattino quindi a pelle diciamo struccata la uso anche la sera nel quando mi strucco nel passaggio della doppia detersione se volete saperne di più su come mi strucco io qualche tempo fa ho fatto un video in cui vi faccio vedere la mia routine magari vi lascio il link anche di quello nell'info box perché che cosa faccio massaggio prima sul viso magari un olio per sciogliere tutto il makeup e poi uso il pannetto in microfibra oppure passo un detergente schiumogeno cioè se non c'è troppo makeup se non c'è troppo olio da rimuovere passo con un detergente schiumogeno levo via olio e trucco e io mi trovo benissimo insomma non mi secca la pelle e mi deterge bene il viso passiamo alla crema io ho molta difficoltà a trovare una crema che mi piaccia tanto perché nonostante a volte uso delle creme delicate comunque mi ungo sempre in questa zona invece devo dire che questa crema fa bene il suo dovere perché soprattutto come base trucco si asciuga a parte che si asciuga in fretta non vi lascia quella patina unta che se vi toccate vi sentite ancora la crema che non si assorbita bene questa si assorbe benissimo erogatore molto comodo a pompetta quindi non dovete pigiare ma basta che schiacciate qui non dovete spremere il tubetto ecco ed è una crema proprio studiata per avere un effetto matt e devo dire la verità io l'ho messa anche questa mattina la pelle non si è non si è unta ecco e anche questa contiene bio liquefatti enzimatici ottenuti con tecnologia brevettata di succo di pomodoro e farro olio di jojoba acido ialluronico quindi arricchita anche con acido ialluronico che è un potente antietà estratto di carciofo idrolati di caffè e salvia acido di mele amido di riso e insomma vi sono un sacco di attivi che fanno bene alla pelle che riducono i segni dell'età più che altro più che segni dell'età diciamo le rughette d'espressione e allo stesso tempo quindi vi idrata ma non vi unge a me è piaciuta tanto questa qui è da 50 ml e da un pao di sei mesi è un prodotto ovviamente di nickel tested dermatologicamente testato biologico questo qui invece ha una pack da 200 ml stessa scadenza di sei mesi sono prodotti vegani e gluten free quindi anche se siete o vegani o se siete comunque allergici o intolleranti al gruttine questi prodotti fanno per voi se volete saperne di più vi invito a leggere la mia recensione sul blog e questa era quanto riguardo a questi due prodotti a me sono piaciuti tanto questa dovrebbe costare intorno ai 16 euro questa intorno ai 23 se non mi sbaglio e niente ragazzi spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video ciao